Ciao a tutti, grazie a tutti per questo nuovo episodio di Minecraft PvP Questo sarà l'episodio tipo... 11, 12, 13, 14, 16, 17, 32 mila Allora, cos'è questo gioco? Questo è un gioco in cui si chiama Max Smash E l'obiettivo è quello di buttare giù dal terreno di gioco gli avversari L'ho già fatto una volta sul mio canale Ma non sapevo nemmeno che tipo di gioco fosse Poi uno di voi me l'ha spiegato nei commenti dello scorso video Quindi ho deciso, ma sì, vediamo se ora ho capito a cosa serve Sto utilizzando la classe Toshi Toshi, Magoshi, Fafafaposhi Ho una spada normale Ho un Double Jump Rocket che mi fa saltare Ho questo che fa danno quando cado dal pavimento E Toshi Egg che tira uova Posso tirare uova? 5, 4, 3, 2, 1 Perché sono spawnato qui? Io ma che faccio? Ok, devo buttarmi Ma vaffan... Bene... Cos'è sta musichetta? Salta! Oh, è caduto Vai, muori! Vai, muori! Prendi il mio uomo fuoco d'artificio Stupido Fabio V Oppure Fabio V Ah, si deve caricare Oh, sono al 54% Quegli livelli là sotto sono la mia percentuale Vola 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 vol vola via sono al 56% oh è nuovo monster ball nooo guardalo come volano ah è caduto vieni qui oh sono a 2 sono a 2 ce la posso fare vai fabio 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 v fabio volo lui fabio volo lui fappa muori muori oh c'era con me quel monstro aha stavo sbattendo contro il blocco ti rendi conto muori oh sono a 2 via 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 qui oh che volo che ha fatto l'ip è maxmash.com quindi se volete giocare l'ip è quello morto mancano 30 secondi ho vinto ho vinto sbattendo 10 eh? son a 4 non posso non perdere cioè non posso non vincere ma dammi tipo非 no non volevo io ho vinto 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 e C'è un nuovo round Va bene Va bene Fai Ah quindi ora Ah no ok c'è altra gente Vabbè facciamo anche questa dai Dai che pokémon Pokémon Dai che pokémon Pokémon Voglio andare dove si può Fa' pare i pokémon Giro vagando per il fapper La mia fapper troverò E tutti i pokemon Così io fapperò Oh 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 Viva i pokemon Tutti più fapponi Popio fapperanti Viva i fappemon Ha una spalla di diamante quel tizio Papa papapa papapa Stupido fappone C'è un tizio invisibile, visibile, 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 visibile Oh, mamma mia, sono mezzo morto, vive Pokémon Yo, 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 sono mezzo morto, sono anzi morto Cos'è? Mamma mia Via, 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 via da qui, mia Oh Mio, cos'è? Noi, va bene Cos'è? No, no Sto perdendo, sono a meno uno Eh, va bene No, 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 no Maxi, mapple, non so cosa fa Via, 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 via 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 No, 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 no Mori Oh mamma Mamma Cos'è? L'ender dragon C'è Cosa dovrei fare io mo? Ehi grazie TNT dammela Sono scemo Mi sono suicidato Non lo so Mori! Oh, fa più! Tutti i verdi qua sono su tutti i fapponi Io che colore sono? Verde? No perché anch'io sono un fappone Sono terzo Dai voglio meno stare a zero Non in negativo Negativo è brutto Ma fa 30 secondi Via Via Vola 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 La pe maia E vabbè Questa è persa Va bene Grazie per aver seguito questo episodio di Minecraft PvP Io vi saluto Ciao Turuturututti Vola 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 Grazie.